Non avete mai pensato? E a cosa? State ascoltando Pillole di Beat Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di questa nuova puntata di Pillole di Beat siamo alla numero 76 e giusto per dare qualche riferimento temporale fuori fa brutto piove ed è uggioso ma è novembre quindi è abbastanza capibile allora oggi parliamo di un sistema di identificazione di un oggetto che è entrato nelle nostre vite a partire da qualche anno ma che è molto più vecchio e che comincia a essere molto utile in questo periodo dove i cellulari finalmente non hanno bisogno di un'app specifica per poterlo leggere stiamo parlando del QR code, il QR code cos'è? è quel quadrato che normalmente è pieno di puntini che inquadrate con il telefono e vi fa un tot di cose vi registra a una rete wifi piuttosto che vi registra un contatto nei vostri contatti vi manda a un link eccetera eccetera ma come funziona questo QR code? innanzitutto diciamo che QR non sta per quadrato ma per quick response quindi per lettura immediata è stato inventato dai giapponesi nel 1994 quindi una roba piuttosto vecchia è stato inventato nelle catene di produzione delle auto perché era molto più comodo per identificare i singoli pezzi piuttosto che il barcode il barcode ha questo limite che va bene per pochi caratteri quindi tendenzialmente soltanto numeri per esempio il barcode lo trovate su qualunque prodotto in vendita sono 13 caratteri ed è detto EAN e sono 13 numeri nel QR code c'è spazio fino a 7100 numeri quasi oppure 4300 caratteri insomma si può scrivere anche un piccolo testo all'interno di un QR code e soprattutto c'è tutto un sistema di correzione degli errori quindi c'è ampio spazio per fare in modo che anche se il codice è stampato male o è troppo piccolo comunque il sistema riesca a interpretarlo il QR code è letto o da un software specifico ci sono un sacco di app che leggono i QR code so che iOS nelle ultime versioni ora non mi ricordo se è dalla 10 o dalla 11 inquadrate una foto con un QR code un pop up vi dice senti che devo fare? aggiungo il contatto, vado al link ti copio il testo negli appunti eccetera eccetera il riconoscimento è se fate caso rapidissimo anche se lo inquadrate storto per pochissimi secondi si azzecca subito un altro esempio classico dell'utilizzo che se ne fa è quando si vuole aprire Whatsapp via web la pagina web ti dice scansiona questo QR code dal telefono e mette in comunicazione la pagina con l'app allora come è gestito questo sistema qua? come funziona? ci sono se fate caso tre quadrati grandi agli angoli quei quadrati servono al software per allineare e mettere nella direzione giusta il QR code quindi sappiamo sempre che quello in alto a sinistra deve stare in alto a sinistra e gli altri due sono in alto a destra e in alto in basso se lo fotografate al contrario il sistema non farà che girarlo in questo modo qua poi ci sono una serie di puntini neri alternati adesso a voce diventa difficile ma nel link con le note dell'episodio c'è un piccolo video con tutta la descrizione di questi minuti del podcast in una bellissima gif da pochi secondi a partire dagli angoli più interni di questi tre quadrati partono una serie di puntini alternati nero bianco nero 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 bianco che servono per la sincronia poi vicino a questi quadrati di allineamento ci sono dei quadratini piccoli che identificano il tipo di QR code quindi che cosa mi ci devo aspettare dentro se è un contatto so che dovrò leggere queste informazioni se è una rete wifi queste altre a questo punto restano tutti gli altri quadratini bianchi e neri ogni quadratino è un bit normalmente se è bianco è il bit 1 se è nero è il bit 0 se fate dei gruppetti di 2x4 fate gli 8 bit e quindi fate il byte a questo punto come vengono letti i bit e i byte a seconda del tipo di QR code c'è una specie di serpentina che il sistema legge non so se avete presente la serpentina che si fa per entrare nelle giostre o al controllo del bagaglio a mano in aeroporto uno via l'altro il sistema leggerà i singoli byte e comporrà tutto il messaggio perché il QR code non contiene altro che un messaggio buona parte tipo la metà della superficie del QR code è gestito anzi è mantenuto per la gestione degli errori purtroppo ci possono essere dei problemi di stampa magari mancava del toner magari il pixel è troppo piccolo c'è tutto un sistema fatto per poter correggere gli errori dal QR code ci sono state poi delle evoluzioni ce ne sono di molto piccoli per esempio con un quadrato solo per l'allineamento ce ne sono di particolari tipo con dei loghi in mezzo con delle scritte con delle piccole opere d'arte al centro diciamo che si mangia un po' di parte della superficie del QR code dedicata ai dati e la si dedica a questo disegnino ce ne sono di ogni genere e specie e poi ci sono delle singole app che hanno sviluppato dei loro QR code specifici per quelle cose se per esempio guardate facebook messenger ha dei QR code molto particolari fatti a esagoni lì basta solo modificare la correzione piuttosto che la correzione il software che decodifica l'immagine ed è presto fatto come ci si può generare i QR code basta mettere su google QR code generator ce ne sono circa 7-8 milioni penso e potete fare qualunque cosa mettere il QR code del vostro contatto nel bigliettino da visita così la persona a cui lo date ci fa la foto con il telefono e il vostro contatto finisce direttamente nella rubrica sua io lo uso in azienda dove ho le stanze con la wifi per gli ospiti praticamente metto il QR code chi ha il telefono fa la foto al QR code ed è connesso alla rete wifi per gli ospiti senza dover scrivere la password ci sono moltissimi sistemi di identificazione prodotti per il QR code perché vanno molto più nello specifico adesso in un sacco di ambiti il QR code è evoluto in RFID che è una cosa molto meno visiva molto più elettrica elettronica e talmente precisa che per esempio c'è Decatron che mette un RFID per ogni per ogni capo e ognuno ha un numero di serie diverso ma di questo magari ne parliamo in un'altra puntata quindi alla fine se volete fare una cosa interessante volete dare delle informazioni di piazzare un QR code da qualche parte lo vedete anche nelle pubblicità in un sacco di posti ve lo potete generare e potete potete stamparlo la cosa bella del QR code rispetto al barcode è che non c'è bisogno di acquistare nessun font perché i font dei barcode tendenzialmente sono a pagamento mentre il QR code non è altro che un un disegno grafico che in teoria manualmente potreste farvelo voi i siti che lo fanno ovviamente lo fanno meglio e lo fanno in tempo molto più più rapido e soprattutto ci sono dei siti che lo fanno a pagamento mettendoci dentro il disegnino il logo della vostra azienda o quant'altro bene anche per oggi è tutto spero di avervi raccontato una cosa nuova che non sapevate da mettere lì a bagaglio per fare bella figura immensa con i colleghi e vi ricordo che se questo podcast vi è piaciuto potete passarlo ai colleghi agli amici anzi siete assolutamente invitati a farlo sul sito pilole di bit col punto prima dell'it trovate tutti i contatti la mail il canale twitter il canale telegram dove si può venire a chiacchierare o a chiedere argomenti di cui parlare sempre nella pagina pilole di bit col punto prima dell'it c'è il link per le donazioni di di paypal con le donazioni non ci vado in vacanza ma mantengo attivo il podcast pago l'hosting pago spreaker eventualmente aggiorno l'attrezzatura eccetera per la primissima volta riesco a fare questo podcast tutto all'interno del software di alex quindi lo ringrazio tanto per avermi dato la possibilità di fare da beta testing per avermi sopportato per tutte le volte che gli ho rotto le scatole alla fine del podcast c'è il jingle con il link dove andare a pescarlo grazie per l'ascolto e ci sentiamo la prossima settimana ciao per avermi sopportato lti.media slash producer p-o-d-u-s-c-e-r a m Grazie a tutti.